insomma qui è tutto pronto io ho sistemato primo scenario di sword and sorcery devo capire se io questo gioco lo posso giocare o no ho sistemato partita per due giocatori abbiamo qui auriel e ecarus nella loro versione un po più caotica con un paio di elementi ci ho messo mezz'ora soltanto per sistema al tavolo se gioco non è facile per niente a sistemare ma come vedete tutto pronto proprio alle 7 su twitch.tv slash gioco da tavolo trovate il link anche nella descrizione e se fanno due risate ma soprattutto due chiacchiere insomma fate un po come volete ma lì mi trovate sword and sorcery e lares games il gioco sembra